Sfogliamo insieme le notizie che arrivano dal territorio della Sardegna. Sassari notizie, turismo in scadenza, bando europeo Aden per comuni destinazione di eccellenza. Scade venerdì 13 il bando, il progetto Aden attivato dalla Commissione europea. I centri potranno candidarsi a destinazione di eccellenza laddove i propri obiettivi di crescita economica siano in sintonia con la sostenibilità sociale, culturale e ambientale. Andiamo sulla prima pagina della nuova Sardegna. L'efficienza sanitaria, la Sardegna è all'ultimo posto in Italia. Le classifiche della Fondazione Ambrosetti dicono comunque che lo stato di salute degli abitanti è superiore alla media nazionale. Ieri è stato presentato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera Sarda, la sanità Sarda ha però ricevuto un'altra bastonata e anche molto pesante. Appunto, come abbiamo letto, il dossier meridiano sanità ha visto la Sardegna agli ultimi posti. Andiamo su alger.it. È il presidente della regione, Francesco Pigliaro, ad intervenire sul mancato riconoscimento del dipartimento, quale sede è decentrata e di fatto dando una risposta attesa da tempo. Quindi su architettura l'attesa svolta sarà una sede decentrata e tra l'altro Francesco Pigliaro incontrerà sia il rettore dell'Università dei Sassari che il sindaco di Alghero. Ci spostiamo sulla prima pagina di Olbia.it. Qui c'è un video dove c'è un'intervista all'ambasciatore del Qatar in visita a Olbia. Lui dice di essere molto soddisfatto di questi investimenti e soprattutto ha incontrato i sindaci di Olbia e Arzachena, come abbiamo già visto nel nostro telegiornale. Con loro si è parlato anche di progetti futuri. Andiamo avanti su cronacenuoresi.it. Tragedia a Galtelli. Il ristoratore muore sotto il peso della propria auto che si è scontrata contro un muretto. Un noto ristoratore di Galtelli, Patrizio Cossè, ha perso la vita ieri in un incidente in località Pappadosa, lungo la strada che da Galtelli conduce a Dorgali. Andiamo sulla prima pagina di Ilatv.it. Col diretti Sardegna chiede l'etichettatura del latte. Sono 200 milioni di litri di latte sardo che vengono prodotti ogni anno. Però in Italia solo una busta su 4 di latte UHT è italiana. Quindi insomma col diretti chiede l'etichettatura e chiede di salvare proprio gli allevamenti. Il delitto d'ore è l'unione sarda.it. L'ultima sentenza per Contu. La Cassazione, dice, fu lui ad uccidere. La sentenza è arrivata dopo una lunga Camera di Consiglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di carcere per Pierpaolo Contu come esecutore materiale dell'omicidio di Dina Dore il 26 marzo del 2008. Accolta quindi l'attese dell'accusa a Contu. Occise d'ore su mandato di Francesco Rocca, il marito della donna. Cagliaripad.it. La rivoluzione sanità meno ricoveri. Poi la sanità, l'obiettivo è l'ASL. Unica potrebbe essere una scelta obbligata per la Regione. Questo è quanto ha detto il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. Con questo è tutto.